Omicidio Anastasia, dopo 14 mesi inizia il processo per Alashri. Muraglia, le voci di un quartiere cantierizzato da due anni. Pesaro e Gradara, patto d'amicizia con Beslan. Stretta di mano fra Megabox e Università di Urbino. Calcio, rivoluzione a Fano, si dimette il presidente russo. Buona serata a tutti voi amici e amici di Rossini TV. Ritrovati al nostro spazio informativo serale di Rossini News. Telegiornale di martedì 16 gennaio che apriamo tornando ad occuparci di uno dei casi di cronaca più importanti dell'ultimi anni. Ovvero l'omicidio, il femminicidio di Anastasia, giovane 23enne ucraina, morta a Fano 14 mesi fa dove aveva trovato riparo fuggendo dalla guerra nel suo paese. L'omicidio, dicevamo, risale a novembre 2022. Il marito egiziano va a processo da domani nel Tribunale di Pesaro. Comincerà domani, 17 gennaio, in corte d'assise nel Tribunale di Pesaro, il processo per omicidio pluriaggravato a carico di Mustafa Alashri, 43enne egiziano accusato di aver ucciso la giovane moglie ucraina Anastasia nella casa di Fano nella quale risiedevano, ovvero in via Trieste, zona Lido. Il delitto fu consumato il 13 novembre 2022. Anastasia morì ad appena 23 anni, colpita da 29 coltellate, e il suo corpo fu ritrovato nelle campagne attorno a Fano. Alashri fu arrestato alla stazione ferroviaria di Bologna mentre stava tentando la fuga in treno. Il processo inizia ora a 14 mesi dal femminicidio dopo che la giudice del Tribunale di Pesaro, Antonella Marrone, aveva precedentemente respinto la richiesta di rito abbreviato avanzata dalla difesa dell'egiziano. Alashri era accusato di omicidio volontario aggravato da occultamento di cadavere e pregresse lesioni e maltrattamenti a carico della donna. Anastasia aveva denunciato il marito ai carabinieri pochi giorni prima del delitto, temendo per l'incolumità sua e di suo figlio, che nel frattempo ha compiuto tre anni e che è tornato a vivere in Ucraina con i nonni materni costituiti si parte civile nel processo. Non c'è stato però il tempo per la procura di convocare Anastasia. Il marito l'ha uccisa prima. Una storia straziante che ha sconvolto la comunità fanese nella quale Anastasia aveva trovato riparo e prospettiva rifugiandosi dallo scoppio della guerra in Ucraina. Lavorava come cameriere ed era insegnante di musica. Il marito Mustafa era anche egli integrato a Fano, lavorando come pasticcere. Un matrimonio però estremamente conflittuale che aveva portato Anastasia ad abbandonare casa e rifugiarsi presso un amico fanese con il figlio. Il giorno dell'omicidio era tornata nella casa di Via Trieste per recuperare alcuni effetti personali. Non vedendola più rientrare, l'amico che la ospitava allertò i carabinieri. Fu avviata una caccia all'uomo mirata subito su Alasri. L'egiziano fu rintracciato attraverso immagini di videosorveglianza e fermato alla stazione di Bologna. Interrogato diede indicazioni per ritrovare il corpo di Anastasia, che fu rinvenuto chiuso in una valigia nelle campagne fanesi. In sede di interrogatorio, Alasri ha affermato di non ricordare di aver ucciso la compagna. Secondo l'uomo, nella casa di Via Trieste, l'arma del delitto era in mano ad Anastasia, che avrebbe inizialmente cercato di colpirlo. Dopodiché ha dichiarato un blackout di memoria. Cambiamo argomento perché nei giorni scorsi ci siamo occupati dei lavori per il completamento degli interquartieri di Muraglia. Dopo l'ennesima chiusura e limitazione al traffico di queste ultime settimane, è stata data infatti una data di fine lavori, quella del prossimo mese di marzo. Un traguardo che arriva dunque dopo lavori iniziati a ottobre 2022, che ha creato non pochi disagi nelle quartiere, soprattutto per le attività commerciali, come possiamo vedere in questo servizio realizzato dal nostro Paolo Pagnini. È stato annunciato nei giorni scorsi un punto d'arrivo per i lavori sull'interquartieri e siamo venuti qua nel quartiere di Muraglia perché ancora comunque mancano diverse settimane e siamo venuti a ascoltare il parere dei residenti e delle attività commerciali della zona. Sicuramente a livello lavorativo e commerciale ne abbiamo risentito tanto e speriamo che l'infrastruttura si completi il primo possibile e che poi comunque la gente riesca a ripraticare, a ripercorrere la strada del quartiere per rimettere in moto un po' il commercio. Capisci che quando una strada è proprio chiusa eviti il giro, poi magari sono le code in altre strade, quindi uno già è in ritardo, evita di fermarsi nuovamente per un caffè, una colazione o una spesa da qui da Tommy, quindi stiamo a vedere. Spero che finiscano nelle date che ci hanno detto anche perché i lavori forse ci volevano e quindi prima ci lamentiamo che non li vogliamo e poi tanto i lavori vanno fatti. Si è presa la decisione che dovrebbe essere fatto questo interquartiere e speriamo che poi una volta aperto sia buono anche per noi, anche se noi stiamo in questo momento storico, stiamo veramente attraversando un periodo bruttissimo, veramente brutto. Per noi è una nota negativa perché anche quando hanno chiuso tempo fa hanno davvero recato dei danni, danni proprio alle attività, non solo noi ma della zona, perché comunque anche se la gente poteva tranquillamente girare dalla nostra parte, con i cartelli che avevano messo pensavano di non poter andare oltre e quindi non giravano neanche, quindi qui c'era la desolazione. È stato veramente un grande colpo, un duro colpo per quanto riguarda la nostra attività e tutte le attività commerciali, perché comunque le persone sono tentate ovviamente di andare dritto, di non girare verso di noi e quindi di non girare, di non partecipare alla vita di questo quartiere a livello commerciale, parlo. Le chiacchiere quotidiane con i clienti cosa dicono? Cosa vi dicono i clienti? Che non capiscono mai il senso di marzo, se si può passare, quando è aperta, quando è chiusa, quando si può ritornare, però tutti hanno detto che comunque di non preoccuparsi, che la clientela fissa rimane, però magari quel 10-20% in più del passaggio probabilmente si perde. Allora, vediamo l'ora che la strada venga riaperta, perché effettivamente ha creato notevoli disagi e speriamo comunque porti un flusso sempre maggiore di residenti più di Pesaro, Fanomo, anche di altre zone per poter raggiungere il maggior numero di persone e dare un servizio migliore a chi vorrà venire in questa zona. questo gruppo di negozianti che ci siamo un po' confrontati e ci piacerebbe appunto che diventasse un centro commerciale naturale all'aperto per dar valore appunto ai piccoli negozianti che insieme magari possono dare sempre un servizio migliore. Sarebbe bastato evitare proprio i mezzi pesanti secondo me per far vivere questo centro commerciale perché noi forniamo di tutto, completamente tutti. Speriamo che lasciano un passaggio per poter venire qui da noi e molto pubblicizzare soprattutto che qui è un piccolo centro commerciale. Ci auguriamo anche vivamente noi commercianti che iniziano presto i lavori del nuovo ospedale che quello sarà e porterà un buon movimento per quello che riguarda sempre le attività commerciali del quartiere. Già stiamo vivendo una nuova realtà che è quella dell'università portata nei centri, nelle stanze del comune, della circoscrizione e quindi speriamo bene che tutto si risolva al prima possibile. Dopo una lunga serie di contenziosi è stato approvato ieri nel Consiglio Comunale di Pesaro il progetto di sistemazione del parcheggio di Porta Cappuccina posto fra stazione ferroviaria Cavalcaferrovia e Parco Miralfiore. Ha approvato un progetto per 145 posti auto di cui sei destinati a persone con disabilità. La superficie di 4.000 m2 non sarà asfaltata ma livellata con fondo permeabile. Una legge per regolamentare l'attività dei medici a gettone nella nostra regione è lo squilibrio che si crea nella sanità di riferimento. Proposta di legge che arriva dal consigliere regionale Andrea Biancani. Queste settimane ho presentato una proposta di legge in Consiglio regionale una proposta che poi se verrà approvata dovrà andare alle camere perché mi sono posto il problema rispetto alle risorse che vengono spese dal sistema sanitario regionale per i cosiddetti medici a gettone. Sono figure professionali che hanno un guadagno che è circa tre volte rispetto a quello dei medici che sono assunti nelle varie aziende ospedaliere e questo sta creando un problema molto grosso perché per lo stesso lavoro ci sono soggetti che prendono molto di più rispetto a quelli assunti. Questa proposta di legge prevede se dovesse essere approvata che il medico gettonista può avere un'indenità massima che è quella che di un medico ne ho assunto. Questo sarebbe una svolta epocale perché ad oggi sono innanzitutto diversi medici che si sono licenziati per andare a lavorare all'interno di queste società o cooperative con questa legge e questo verrebbe evitato e soprattutto ci sarebbe un'equità a livello contributivo che sarebbe più che giusta. Dall'altra parte stiamo comunque denunciando il fatto che è importante togliere quello che viene chiamato il tetto di spesa e questa legge prevede anche questo cioè il fatto che le aziende sanitarie non possono assumere il personale perché hanno un budget massimo a disposizione appunto per assumere per pagare il personale budget che però non viene considerato nel momento in cui vengono utilizzati i cosiddetti i medici a gettone quindi una proposta di legge che metterebbe un po' di ordine a quello che utilizzo dei medici esterni oggi nella sanità pubblica e mi auguro che venga approvata. Dopo tante segnalazioni anche da parte di voi telespettatori di Rossini TV nella zona di Mare di Pesaro è finalmente partito oggi l'intervento del rifacimento dei marciapiedi di Viale Fiume da tempo resi al limite dell'impraticabile soprattutto per passeggini e carrozzine che versano in un forte stato di ammaloramento. Lavori pubblici di riqualificazione anche a Fano dove l'assessora Barbara Brunori annuncia che quello di Piazza Marcolini sarà il primo cantiere che verrà inaugurato nel 2024. I lavori stanno infatti rispettando il cronoprogramma con il completamento delle pavimentazioni di Via Polloni e Via De Borgoggelli e ora il focus che si sposta sulla riqualificazione della piazza centrale e della sua fontana. Aspettando l'inaugurazione di Capitale della Cultura di sabato al Teatro Rossini arriva divertimento all'insegna dell'intelligenza da giovedì 18 fino a domenica 21 gennaio con la bravissima Virginia Raffaele in Samusà per la regia di Federico Tiezzi. Il racconto di Samusà si nutre dei ricordi di Virginia e di quel mondo fantastico in cui è stata ambientata la sua infanzia reale ovvero il Luna Park. Si rinnovano i rapporti di amicizia e cooperazione internazionale fra Pesero, Gradara e la città di Beslan che fu martoriata da un criminale atto terroristico datato 2004. in questi giorni la delegazione dell'Ossezia è in visita nel nostro territorio. A quasi 20 anni dalla strage di Beslan il comune di Pesero e quello di Gradara rafforzano il loro rapporto di amicizia e cooperazione internazionale con la città dell'Ossezia del Nord. In particolare con le madri di Beslan associazione che mantiene vivo a livello internazionale il ricordo del massacro di settembre 2004 nella città della Repubblica Cacuasica della Federazione Russa. Allora 330 persone furono ammazzate dall'assalto di terroristi che chiedevano il ritiro delle truppe russe dalla Cecenia. Mil ostaggi sequestrati per tre giorni un terzo dei quali uccisi fra questi ben 186 bambini. Aza Mas Misikov era fra i bambini superstiti di allora e oggi ha fatto tappa nel comune di Pesero assieme al sindaco di Beslan Kariton Tatrov per ringraziare città come Pesero e Gradara che lottano in nome della pace e contribuiscono a tenere viva la memoria di una pagina di storia nerissima e poco conosciuta. In quest'anno 2024 l'abbiamo ribadito più volte in varie occasioni già dal Natale e dall'inaugurazione di dicembre sarà nella chiave della pace. Credo che in questo momento storico sia un obbligo una responsabilità condivisa non solo da parte degli amministratori ma anche del tessuto sociale della città prendere una posizione sulle tematiche della pace. Continua oggi un rapporto iniziato nello scorso anno scolastico con l'associazione Madre di Beslan avevo avuto modo di incontrare l'associazione in una preziosa occasione di confronto e di conoscenza con l'istituto agrario Cecchi in cui gli studenti e le studentesse hanno potuto conoscere la storia di chi è sopravvissuto alla strage di Beslan sono già passati 20 anni e una storia che ancora si conosce poco attraverso questo rapporto che andrà potenziato nei prossimi mesi sicuramente si troveranno nuove formule di incontro e di conoscenza perché come sempre la memoria aiuta a recuperare e a superare alcune criticità che il nostro tempo contemporaneo ci impone e che sia anche da stimolo per le nuove generazioni e i docenti per approfondire un lato della nostra storia contemporanea che è poco conosciuto ma che merita di riavere voce Nell'occasione è stato anche siglato un protocollo di amicizia e cooperazione fra le città di Gradara e Beslan anche grazie all'azione di Mauro Murgia ambasciatore in Italia per la Repubblica dell'Ossetia del Sud Gradara crede fortemente nella necessità di rafforzare e di continuare in questo percorso intrapreso dalla nostra amministrazione ormai nel 2016 perché dal 2016 abbiamo più che raddoppiato i rapporti di amicizia che ha il comune di Gradara quindi il primo gemellaggio storico al città di Mugestur ma ha continuato con un gemellaggio con San Vicente in Istria una Murat Pasha in Turchia e da lì ci sono tantissimi altri rapporti di amicizia e collaborazione come questo con Beslan analogamente ne è stato fatto uno con l'Ossetia del Sud e quindi noi crediamo fortemente che il concetto di confine nazionale a cui siamo abituati negli ultimi anni ormai ha perso significato non ha più il valore che poteva avere eventualmente benché con qualche forzatura negli anni precedenti ora come ora è quanto mai necessario andare oltre andare al di là dell'ostacolo e cercare appunto di fare un unico spirito di fratellanza tra i popoli e di amore tra le nazioni come insegnamento a che cosa a cercare di eliminare per sempre una volta per tutte la guerra come strumento di risoluzione internazionale dei conflitti gradare appunto molto su questo cerchiamo da tanto di farlo e con peso abbiamo trovato appunto una giusta sintonia nel lavorare per ottenere la pace ed ora ci occupiamo di un innovativo doppio protocollo siglato oggi fra l'università di Urbino e la Megabox Megabox intesa sia come ditta leader nella produzione di imballaggi sia come la società sportiva ora ai massimi livelli della pallavolo nazionale la Megabox intesa tanto come realtà produttiva quanto come realtà sportiva del territorio ha siglato questa mattina due protocolli di intesa con l'università di Urbino protocolli con due dipartimenti quello di scienze biomolecolari assieme alla società sportiva e quello del dipartimento di economia società politica assieme all'azienda Megabox firme arrivate nella sede fanese dell'università di Urbino del complesso di San Michele sono progetti che hanno un carattere direi propositivo nel senso che sono protocolli di intesa all'interno del quale si stabiliscono una serie di opportunità di scambi che arricchiscono il territorio l'università e che possono prevedere rapporti di natura di ricerca piuttosto che consulenziali piuttosto che di arricchimento proprio reciproco e in questo progetto specifico su cui noi chiaramente mettiamo una certa abbiamo messo una certa attenzione una certa una certa passione speriamo di vedere crescere appunto le competenze che noi possiamo portare mettere in campo come area economica e anche l'area scientifica insieme a quelle che Megabox come grande impresa di cui non devo stare adesso a ricordare diciamo i meriti e tutti i ruoli porta come dotazione diciamo verso l'università di Urbino stiamo investendo stiamo investendo tanto nel territorio il territorio sta apprezzando quello che Megavolley sta facendo per tutto quello che riguarda il progetto giovanile della Pallavolo ma non solo riguarda la Pallavolo riguarda anche gli giovani studenti sia di economia che di scienze motore che stanno svolgendo i loro studi formativi all'interno della facoltà dell'università di Urbino e siamo pronti per ospitare all'interno sia del Megabox quindi per l'aspetto aziendale sia Megavolley per quanto riguarda scienze motorie per aspetti formativi di stage per qualificare non soltanto il loro aspetto formativo ma tenere all'interno del territorio la qualità umana e professionale adesso diciamo i passi successivi che vedano la realizzazione del progetto ad assegnarci un po' il passo verso l'inclusione anche dei giovani per noi sono naturalmente iniziative estremamente formative perché danno la possibilità all'università di Urbino di avere contatti molto forti e stretti con il territorio e con le imprese importanti del territorio clamoroso ribaltone nel calcio di Serie D il presidente dell'Alma Juventus Fano Mario Alessandro Russo ha oggi rassegnato le sue dimissioni da presidente del club Granata lo ha fatto attraverso un comunicato in cui rinvia comunicazioni opportune alle sedi competenti intanto le dimissioni arrivano dopo l'ennesima contestazione dei tifosi con lo stadio lasciato semi vuoto domenica durante il derby col Fonsombrone terminato 0 a 0 si conclude qui Rossini News però continuano gli spazi di approfondimento informativo sulla nostra emittente anche in questa serata perché è martedì e il martedì è la serata di Amministrando in questo 16 gennaio alle 21.20 avremo come ospiti di Antonio Astuti Lorenzo Lugli che è consigliere comunale a Pesaro per il Movimento 5 Stelle e Giovanni Dall'Asta a sua volta consigliere comunale pesarese del gruppo Misto l'appuntamento come detto è questa sera alle 21.20 e poi come sempre vi ricordo l'informazione di Rossini TV che torna puntuale domattina in diretta con Buongiorno Rossini la nostra segna stampa dei quotidiani locali a cominciare dalle 7.20 e che sarà condotta per l'occasione di questo mercoledì dalla nostra Emanuela Rossi altra diretta quella delle giovedì sera quella con insieme a Canestro il nostro focus sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che riparte con la prima puntata del 2024 riparte con la nostra Elisabetta Ferri e con le tante novità della VL c'è stato il cambio di allenatore novità che sono anche negli ospiti perché ci sarà la guardia della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Octavio Ottavio Maretto affiancata dall'ex capitano del VL Fabrizio Faccenda l'appuntamento come detto è giovedì alle 21.20 con anche la possibilità di interazione in diretta di voi tifosi al numero whatsapp dedicato 370-366-7210 e poi sabato ci sarà un'altra diretta perché naturalmente non mancheranno le nostre telecamere alla inaugurazione alla cerimonia inaugurale di Pesaro 2024 capitale italiana della cultura alla presenza del presidente Sergio Mattarella per chi non sarà alla Vitrifigo Arena c'è dunque la possibilità di seguire in diretta anche su Rossini TV questa cerimonia a partire dalle 11.15 un quarto di sabato 20 gennaio e con questi appuntamenti si conclude Rossini News termina qui il telegiornale vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi